La Battipagliese ha annunciato l'ingresso in società dell'imprenditore Francesco Ferraiolo, che assumerà l'incarico di direttore generale della prima squadra e della formazione Juniores. Ferraiolo, titolare dell'azienda informatica Copi Tecnica, ha commentato l'investitura con entusiasmo. L'amore che provo per questa città, ha detto l'imprenditore Battipagliese, mi ha portato ad assumere questa responsabilità nei confronti della squadra, per cercare di creare un virtuosismo imprenditoriale attorno alla Battipagliese. E mi auguro che questo mio gesto possa fungere anche da volano per altre persone, altri imprenditori intenzionati a sposare questa causa. Questa è una città che ha bisogno di battipagliesi e di imprenditori.